Mi fa piacere dirlo qua e in questo caso lo voglio dire per i giornalisti che ascoltano, sto parlando di una proposta, adesso ho parlato di cose fatte o cose certe, qui parlo di una proposta su cui mi sento personalmente impegnato, siccome so e riconosco il valore delle librerie in un mercato difficile e in un mercato che ovviamente ha una concorrenza che alcuni fan non c'era, che è la vendita online, ma abbiamo tutti presenti il valore sociale, culturale, storico, identitario delle librerie storiche, io sono impegnato per proporre l'eliminazione dell'Imu dalle librerie, non a carico dei comuni, guardo Piero che peraltro l'ha proposto a Torino, non a carico dei comuni ma con un trasferimento dello Stato che consenta l'eliminazione dell'Imu sulle librerie. Insomma mi pare che davvero stiamo cercando complessivamente di andare in una direzione che il Paese doveva imboccare da tempo, l'investimento in cultura, l'immagine dell'Italia passa attraverso questo, io non posso dimenticare quando nel luglio dell'anno scorso abbiamo chiamato a Milano, all'Expo di Milano, i ministri della cultura di tutto il mondo, sono venuti i ministri di 83 Paesi, è stata anche una giornata emozionante perché c'erano ministri di Paesi con molti problemi di tensione ma abbiamo costruito davvero un tessuto comune, si sa quanto oggi la cultura può fare in una stagione così difficile di incomprensione, di scontri legati alle religioni, alle diversità, alle culture diverse e in quell'occasione, e mi fa piacere ricordarlo qui, Umberto Eco che chiamiamo a parlare per rappresentare l'Italia con un discorso molto semplice ma straordinariamente efficace disse ai ministri della cultura nel passato le guerre, molte guerre, molti odi, molti scontri sono nati semplicemente dalla mancanza di conoscenza reciproca e il vostro lavoro, disse rivolto ai ministri della cultura di tutto il mondo, è quello di aiutare la conoscenza reciproca quindi davvero credo che l'Italia in questo possa giocare un ruolo guida